Buongiorno amici, guardate qui, mi trovo in Germania, questo è per i politici italiani, i gambut, qui c'è una raccolta differenziata, ogni bottiglia 25 centesimi, controlla, guarda il display, la faccia italiana, guarda guarda, questo viene controllato tutto, no come da noi a Napoli, poi in Italia, facciamo la raccolta differenziata, viene mischiato tutto, guarda, questa non la vuole prendere, già stiamo a 2 euro con 8 bottiglie, fai quello che vuoi, ti mangi un panino, ti bevi una birra, quello che vuoi, quello fai, guarda, qui ci sono le persone, qui ci sono le persone che fanno la stesa, guarda un attimo che sono belli, i tedeschi, tutti ordinati, guarda, questo è l'unico gustone che ho raccolto da quando sto qua, 10 giorni di ferie, vedi, controlla il display, caro amico, controlla, 13 bottiglie, 3,25, guarda, sedi, guarda, vai a vedere questo libro a tutto il mondo, guarda, guarda le persone come rigano intorno, che si raccolgono che per noi è una novità, caro amico, siamo da 5 euro e 50, 5 euro e 75, che vuole un bel panino dopo, se lo offre la Germania, guarda, vedi, guarda, guarda, conta il mercado, coca cola, tutto2, questo non lo vuole apprendere, vediamo questa, guarda, tutto in automatico, italiani, citate averlo suo amico, guarda, Vedi? Guarda, controlla, piano piano, vedi? Guarda, che dobbiamo far vedere in Italia questo video, come stanno arretati i trent'anni. Guarda, controlla il display, amico caro, guarda, 11,25, 11,50, controlla, forse riusciremo a fare un contopai, questo lo lavora, tieni così. Vieni così, e se la ricacci fuori, come mai non la prendi? Non la vuole questa, come mai? Il codice a banner, il codice a banner. Sherry! Dobbiamo pure il codice a banner, abbiamo finito, questa non la prende la Powerade. Vieni amico, vieni, 12,25 euro, va bene? Arrivederci.